e 10 e 5 4 3 2 1 vai accenno sinistro vai 80 destri per accenno sinistro accenno sinistro e subito tornantino sinistro chiude sinistro chiude e destra 5 vai 100 sinistri per attenzione destra 2 chiude 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 40 misti attenzione ritarda in destra 2 occhio stringe destra 2 occhio stringe per sinistri 3 in ritarda tornante destro ritarda tornante destro 50 destri in sinistra 2 chiude alla fine chiude alla fine 50 destri a rail sinistra 3 sinistra 3 per destra 3 in sinistra 2 sinistra 2 e destra 2 lunga destra 2 lunga e subito tornantino sinistro 50 50 al cartello sinistra 3 per destra 3 per destra 3 2 tempi 2 tempi vai 50 e sinistra 3 2 tempi 2 tempi e subito tornantino destro e subito tornantino destro a rail sinistra 2 lunga gira lunga gira 20 e attenzione destra 2 taglia gira sporca e sinistra 2 lunga lunga gira e destra 2 stretta destra 2 stretta esce in sinistra 2 gira 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 accenno destro 30 e dopo palo sinistra 4 in destra 2 per destra 2 in sinistra 2 80 misti 80 misti fino alla chiesa sinistra 4 lunga sinistra 4 lunga in destra 3 e accenno sinistro taglia sporco un resto di merda un resto di merda mi ha preso e destra 2 100 misti e sinistra 3 sinistra 3 per destra 4 e 50 sinistri e alla chiesa destra 2 per sinistra 2 stringe 40 al secondo palo accenno sinistro e al box sinistra 4 per destra 4 vai 100 destri e alla panchina sinistra 4 sinistra 4 e taglia in accenno destro 50 attenzione alla strettoia esce in sinistra 3 100 misti al cartello destra 2 due tempi occhio sporco occhio sporco e 30 per sinistra 3 in destra 2 e subito destra 2 e subito sinistra 2 chiude alla ninghiera destra 2 e destra 3 e subito sinistra 2 30 al palo sinistra 4 vai 40 accenno destro e alla chiesa sinistra 3 chiesa sinistra 3 20 e destra 3 in attenzione sinistra 2 chiude chiude sinistra 2 chiude chiude per destra 3 vai destra 3 vai e al palo sinistra 2 chiude 30 e alla ringhiera taglia in destra 2 qua taglia in destra 2 50 al palo sinistra 4 palo sinistra 4 e dopo piazza scende in destra 2 scende in destra 2 accenno sinistro e subito destra 2 in tornantino sinistro tornantino sinistro 50 sinistri si si se no quest'ora in destra 2 sinistra 2 lunga gira lunga gira e 40 in tornantone destro 40 in tornantone destro e 80 e accenno sinistro vai e alpino sinistra 2 due tempi in destra 2 chiude destra 2 chiude e alla cappella sinistra 3 per destra 4 in sinistra 3 20 e attenzione all'incrocio destra 2 secca 40 sinistra 2 lunga lunga in destra 2 attenzione stringe in uscita stringe in uscita qua 50 misti e alla panchina sinistra 2 chiude 2 chiude e 80 misti al tralicio sinistra 2 gira gira e 80 sinistri vai in tornantino destro tornantino destro 80 e destra 3 in sinistra 3 al cartello destra 2 gira e accenno destro in accenno sinistro stringe 40 stringe 40 e al pallo sinistra 3 due tempi 100 misti vai attenzione alla ringhiera bianca destra 2 gira gira destra 2 gira gira per sinistra 3 vai 50 e accenno destro e subito tornante sinistro chiude molto sinistro chiude molto 40 in tornantino destro chiude destro chiude e 40 sinistri e destra 3 in tornante sinistro tornante sinistro 30 e destra 3 e alla sempre sinistra 2 chiude chiude 30 e destra 2 chiude gira 2 chiude gira 80 che cosa sinistra 2 gira gira e destra 2 apre gira gira si gira gira e destra 2 apre e 50 vista e ritarda dal palo tornante destro 2 tempi chiude 2 tempi chiude accenno sinistro doppio doppio e destra 3 diventa subito 2 e sinistra 2 30 e destra 2 30 misti e alla ringhiera sinistra 2 30 su avvallo avvallo e accenno destro per accenno sinistro e al palo destra 2 lunga lunga gira e subito sinistra 2 per destra 3 e sinistra 3 e ritarda in destra 2 chiude ritarda in destra 2 chiude in tornante sinistro 60 al tralliccio tornante sinistro esce in accenno destro 20 e accenno destro diventa destra 3 lunga diventa 3 lunga 50 e sinistra 4 50 e allo specchio accenno destro per accenno sinistro e destra 3 e sinistra 2 gira sinistra 2 gira e subito destra 2 2 tempi destra 2 2 tempi 2 20 e sinistra 2 gira gira intornante destro e 40 misti e destra 3 chiude destra 3 chiude e subito tornatore sinistro lungo subito tornatore sinistro lungo accenno accenno per destra 3 e 60 destri in sinistra 3 lunga e per accenno destro e accenno sinistro 50 destri e in sinistra 2 chiude siamo avanti sinistra 2 chiude e subito destra 2 lunga gira vai sinistra 2 lunga gira vai